ragazzi faccio questo video velocissimo per comunicarvi che circa dalle ore 12 qualcosa i server di google sono tutti andati capo che siano e mail che siano drive google drive youtube stesso ragazzi tutto morto tutto spento non si apre più nulla io stavo caricando era arrivato al 30 per cento del caricamento per l'ultimo video che ho finito di editare poco fa e niente ragazzi tutto down tutto morto ora il problema qual è il problema si pone se tutti i contenuti si siano potenzialmente versi cioè perché va a succedere una cosa di queste perché sicuramente i loro server o sono sono morti nella nel concreto o malfunzionamenti però spero da un lato che non si siano persi i contenuti cioè ragazzi io nel mio canale ho oltre 850 video anni anni di sacrifici anni anni di riprese anni anni di non ci posso pensare ragazzi però sai non mi dispiacerebbe se ci fosse una sorta di reset totale e tutti e ripeto tutti gli youtuber mondiali e debbono iniziare da zero bello eppure questa ragazzi è una cosa che mi piacerebbe anche per me attenzione io sono arrivato a circa 6.600 iscritti si inizia tutti da zero e poi lì nell'effettivo chi è più bravo vince eppure chissà se non succede questo dimmi tu cosa ne pensi nel contempo vedi sul video tutte le varie prove che sto facendo per riaggiornare la pagina però niente ragazzi non parte non parte nulla ora sono le ore 13 16 e ancora niente mi dà errore e mi dice i nostri sistemi hanno rilevato un traffico insolito proveniente dalla tua rete del tuo computer comunque no non è il problema della mia rete del mio computer loro sono furbi per far credere al navigante che il problema sei tu e ti scrivono questo ma no e tutto il mondo tutta l'italia dice la stessa cosa il youtube per esempio è down ovunque sia dall'applicazione che dal computer perciò c'è poco da dire c'è poco da dire fanfanerie non è così non è un problema il mio computer non è il problema la mia rete come non è anche un problema la vostra rete neanche il vostro computer comunque ragazzi davvero un reset totale dei canali youtube ci vorrebbe ci vorrebbe così chi è bravo nuovamente ricresce chi non è bravo ciao ciao ma speriamo vada così dai io che posso perdere io posso perdere i miei 800 video non è un problema li rifaccio da capo ragazzi e rifaccio da capo ancora più carico di prima l'importante è che comunque mi seguiate tutti lascio like a questo video un commento dimmi se anche tu ti sei accorto di questo problema al youtube perché alla fine youtube se io provo ad aprire invece la mail vediamo se me la apre faccio aggiornamento niente dal dallo smartphone non va dal computer si dal computer e apre auto look apre perciò vedi è soltanto un problema su sui server di google vediamo google drive google traduttore google traduttore funziona drive il drive di google funziona pure o è che soltanto youtube ora fammi capire oh mamma mia non va bene non va bene ragazzi non va bene ciao ragazzi al prossimo video iscrivete al canale mi mi raccomando seguimi